Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di un argomento che per voi che dovete ancora venire qua in Australia e siete interessati vi sarà molto utile, perché vi parlerò di tutti i lavori più comuni tra noi backpackers qua in Australia e anche i lavori che sono più semplici da trovare. Quindi vi do un po' di alternative, quindi potete anche scegliere in base alle vostre esperienze passate. Vi premetto già che oggi non parlerò di farm, perché le farm hanno bisogno di un video dedicato. Infatti adesso che le sto facendo, adesso che dovrò spostarmi per cercarne ancora, diciamo che sto imparando molte più cose sulle farm e tra qualche settimana arriverà quel video. Comunque vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace. Almeno un video a settimana c'è sul canale. Sempre riguardo il discorso Australia, working on e divisa. Questo video si dividerà con le prime due categorie principali dei lavori più diffusi e poi gli extra, che sono altre tipologie di lavoro che dopo ve ne parlerò. Però vi voglio ricordare che comunque il working on e divisa è un visto temporaneo, perché come spiegavo nell'altro video, noi abbiamo un anno di visto all'inizio, possiamo rinnovarlo per il secondo e anche per il terzo. Successivamente arriverà il video su come poter fare le farm, come poter contare gli 88 giorni per rinnovare il visto working on e divisa. Quindi rimanete connessi. Quindi allora vi ho appena detto che è un visto temporaneo. Vi ricordo che c'era una regola fino a fine 2023, che ognuno non poteva lavorare per più di sei mesi con lo stesso datore di lavoro. Adesso dal 1 gennaio 2024 è stato modificato. Vi metto il link in descrizione del sito ufficiale del governo australiano, dove viene spiegato tutto con i dettagli. Però per farvi un riassunto veloce, vi dico già che se lavorate per lo stesso datore di lavoro, però lavorate in due sedi differenti, potete lavorare tra virgolette all'infinito finché non avete il visto. Quindi un massimo di sei mesi in ogni sede. In più dopo se per esempio lavorate con animali o nell'agricoltura, in qualsiasi luogo d'Australia, potete lavorare per più di sei mesi. Poi ci sono anche i settori critici come la salute, l'assistenza agli anziani, l'assistenza ai disabili. Poi un altro esempio è lavorare per sistemare catastrofi naturali, quindi disastri fatti da alluvioni oppure da incendi. Comunque vi lascio il link in descrizione, andatevelo a leggere, che là c'è scritto tutto nel dettaglio, le varie tipologie, categorie di lavoro, in che zone di Australia va bene, in che zone no. Ok, allora partiamo dalla prima grande categoria, quindi la categoria dell'hospitality. L'hospitality è un settore molto diffuso in Australia, spesso è un lavoro a contatto con le persone, quindi bisogna avere già magari un livello di inglese un po' migliore. Però posso farvi un esempio, per esempio se vi prendono come cameriere, all'inizio magari sarete runner, che runner significa praticamente quello che porta i piatti al tavolo, e non deve prendere le ordinazioni, potete farlo anche con un livello di inglese proprio bassissimo. Però se già magari siete waiter, quindi dovete prendere l'ordinazione, allora là vi serve un livello inglese più alto. Una cosa molto importante da ricordarsi dell'hospitality, tra grande maggioranza dei lavori bisogna farsi l'RSA, che ha il corso per poter servire alcolici. Io per esempio ho fatto il pizzaiolo, quindi lavoravo sempre in hospitality, però non ho dovuto farmi l'RSA, perché io non dovevo fisicamente andare a servire alcool ai clienti. Generalmente l'hospitality la maggior parte delle volte è un lavoro serale, quindi insomma dovete mettere anche in conto questa cosa, e in genere il minimo diciamo che va dai 25 dollari, all'incirca ho sempre sentito quello che era il minimo che la gente prende, 25 dollari da tassare, quindi vi ricordo il 15%, quindi per concludere, poi dipende che esperienze avete, alla fine come in tutto dipende se avete esperienze o non avete esperienze, perché se non ce le avete potreste fare l'ho a piatti, potreste fare il runner. Però se magari avete esperienze, magari potete già andare come sous chef, come chef, come pizzaiolo, come lavori un po' più qualificati, quindi potreste ambire anche a più dollari all'ora. In più come vi parlavo di contratti casual, che quindi non sapete mai quanto lavorate, diciamo che con un lavoro che magari è chef, è pizzaiolo, è un lavoro che è un po' più difficile da sostituire, quindi riuscirete ad avere più ore a settimana, e abbastanza più sicure. Seconda categoria sono le construction, si intende qualsiasi lavoro riguardo edilizia e costruzioni, generalmente è un lavoro mattutino, quindi si inizia magari alle 7 di mattina, alle 6 di mattina, si inizia alle 2, 3, 4 di pomeriggio, e generalmente si è sempre in zone diverse. Inizialmente se voi non avete esperienza, ci potete farvi assumere come manuale, quindi laborer, tramite agenzie di solito, si va in un'agenzia, si manda il curriculum, anche se magari è vuoto, mettete un'esperienza finta, e dopo vi trovano loro al lavoro, e vi collocano in base alle aziende, eccetera. È importante ricordarsi, dovete farvi la white card, costa all'incirca 130-150 dollari, che è un corso della sicurezza sul lavoro, che lo fate in 7 ore, in una giornata. Poi qua diciamo che potete decidere voi, in che zona andare, in che città, sulle città, è molto semplice trovare lavoro nelle construction, però vi dico, se magari volete venire a lavorare nelle construction, sapete già che volete stare più di un anno, quindi rinnovare il visto, un consiglio che posso darvi è andate ad Adelaide, a lavorare per gli 88 giorni, perché se lavori nelle construction, in centro ad Adelaide, conta come gli 88 giorni per rinnovare il visto, ma lo dirò nei prossimi video, in cui parlerò del rinnovo del visto. Ok ragazzi, siamo arrivati quasi alla fine, adesso vi dico qualche esempio extra, che magari certi miei amici, che ho sentito che fanno lavori strani, ci sono rimasto un po' stupito, quindi una cosa che posso dirvi, per esempio io ho un mio amico, che lui lavora come insegnante, insegna inglese, lui è americano e insegna inglese, oppure ho conosciuto una ragazza, che lei lavora come assistente del dentista, perché aveva esperienza in Germania, e quindi sta facendo questo lavoro qua, quindi comunque, come vedete, sono lavori anche specializzati, che però c'è gente che assume, anche sapendo che magari te hai solo un anno di visto, quindi tenetene conto, che se avete esperienze di questo genere, potete veramente tranquillamente guadagnare anche 50, 60, 70 dollari l'ora, che insomma sono proprio bei soldi. Un altro esempio sono le miniere, che qua in Australia veramente pagano molto bene, non serve avere esperienza, puoi anche entrare senza avere nessuna esperienza, è un po' difficile, però ho conosciuto gente che ci lavora, e questi lavori si chiamano FIFO, fly in, fly out, perché di solito magari sono tutti aperte, quindi in Western Australia, quindi parti in aereo, vai in mezzo al niente, proprio in una miniera, vivi là per due settimane, hai vitto, alloggio, pagato, quindi non spendi un dollaro, e magari in quelle due settimane ne guadagni 4.000, poi torni, ti riportano a PERT, poi là stai una settimana in cui non lavori, quindi la maggior parte della gente cosa fa? Arriva a PERT, tornato da due settimane di lavoro, va a Bali, una settimana, intanto sono 5 ore di volo, non spende niente, poi torna, lavora altre due settimane, ed è un modo proprio per mettere da parte, una quantità di soldi indefinita. Bene ragazzi, per questo video è tutto, allora spero che vi sia stato utile, adesso vi ricordo, mettete mi piace, per me è importante, e soprattutto iscrivetevi al canale, che piano piano, un po' di persone stanno arrivando, mi fa molto piacere, e dai ci vediamo al prossimo video.